Che fine ha fatto la legge di riforma sugli alloggi residenziali pubblici che aveva avviato l'assessore Roberto Frongia con il coinvolgimento e il consenso dei sindacati e degli inquilini? E' quanto chiedono Sunia, Sicet e Uniat che denunciano le politiche in materia portate avanti dalla Regione? La legge che attualmente governa i contratti di locazione del patrimonio residenziale pubblico di proprietà di area dei comuni rilevano i sindacati e risale al 98. E' ormai superata dei tempi, sottolineano Marco Cucu, Sunia, Franco Cocco, Sicet e Marco Foddai, Uniat soprattutto se si pensa all'attuale situazione economica e sociale caratterizzata da famiglie con pochi componenti molte coppie senza figli e singole persone che hanno bisogno di una casa in affitto. I sindacati ricordano che a peggiorare la situazione c'è la crisi generale e la flessione dei redditi delle famiglie che ha portato all'incremento degli sfratti per morosità circa 600 nel 2021 alla conseguente vendita degli appartamenti e alla riduzione di quelli in affitto con aumenti spropositati dei canoni persino per gli alloggi vettusti e inadeguati. Quel testo di legge, sottolineano Sunia, Sicet e Uniat, introduceva radicali innovazioni e modifiche più attinenti ai bisogni degli inquilini e a tutela del patrimonio residenziale pubblico contro le facili illusioni che nel tempo hanno persino distorto le finalità della legge del 98. Tra i punti sostanziali per i sindacati c'era l'introduzione di correttivi per evitare l'appropriazione illegale degli alloggi, la possibilità di intervenire sugli stabili per l'attività di recupero e manutenzione vedendosi poi riconosciuta una riduzione del canone. Ma anche un organo di conciliazione per dirimere i contenziosi e affrontare le diverse problematiche abitative.